Un anticiclone presente sul Mediterraneo occidentale ed una depressione tra la Gran Bretagna e la Scandinavia fanno fluire sulla nostra regione correnti occidentali umide. Per domani prevediamo cielo in genere poco nuvoloso in montagna, sulle Alpi e sulla fascia più occidentale, variabile nuvoloso invece sul resto della regione, con la possibilità anche di più vigini a Trieste e sul Carso. Di notte saranno possibili nebbie anche estese sulla bassa pianura e sulla costa più occidentale. Per domenica inizialmente prevediamo tempo buono, sereno o poco nuvoloso, poi con il passare delle ore aumenterà la nuvolosità per il passaggio di velature in quota che tenderanno a mascherare il sole. Durante la notte saranno ancora possibili nebbie, in particolare sulla bassa pianura e sulla costa. Lunedì inizialmente cielo variabile nuvoloso, non escluso anche qualche fiocco di neve sulle creste alpine e poi con il passare delle ore un netto miglioramento per l'arrivo di aria più secca da nord, che si farà sentire con qualche raffica di fen in montagna e in pienura e un po' di vento di bora inserata sulla costa. Miglioramento che poi permarrà per buona parte della giornata di martedì, giorno di Natale. È tutto, buona giornata e buone feste dall'osservatore metallogico dell'arpa.